Ciao ragazzi! Oggi vediamo insieme il Matte Metal Melted Shadow di Huda Beauty La colorazione è Cashmere Robin Penthouse Sweet Bellissimo marrone nella parte matte, neutro freddo che applichiamo insieme ma c'è una piccola interruzione Ciao, eh? Ciao, eh? Ti ho spostato da questo? Ah, ma così almeno è posto per mettere qualche altro mobile qui? Sì No, perché ci chiedevo anch'io perché mamma Facevo fatichissima a fare così Quando quella era lì E tu l'hai da l'altra parte, ma adesso non faccio stica Amore, con calma arrederemo tutto Anche questo piano Sto registrando, sai? Sì Perché l'hai rossetto sugli occhi? Perché? Perché l'hai rossetto sugli occhi? Ah, il rossetto! Non è un rossetto? Perché non parli che stai distante? Eh, perché dopo faccio il voiceover, visto che sono brava a farli come ieri sera, ti ricordi? Sì Comunque non è un rossetto, è un ombretto Ecco, come assaggiamente detto mia figlia, ho appena applicato il rossetto sull'occhio No, è un ombretto amore, è un ombretto liquido Sembra un rossetto, ma è un ombretto Come la pioggia Non così tanto liquido, se no sarebbe un po' difficile gestirlo Anzi, devo dire che il tocco di questo ombretto è asciutto Ho la sensazione proprio quella di non avere nulla sulla palpebra Il colore, come dicevo, è un bel marrone neutro freddo dal tono medio Sulla mia palpebra risulta così Si sfuma molto bene, ma ho avuto difficoltà a portarlo in transizione Cioè, volendo fare tutto con questo ombretto, non sono riuscita a sfumarlo così tanto Da attenuare il tono e farlo diventare molto più soft e leggero Però devo dire che man mano ho lavorato, il risultato mi è piaciuto molto Anzi, addirittura al giorno seguente sono uscita solo con la parte matte Ovviamente intensificata, un po' in fraccigliare Ma mi piace veramente molto, un po' da lavorare Ecco, ci va un po' di mano È la volta della parte metal Andiamo a applicare questo bellissimo colore Prima con il suo applicatore che comunque è in setole Una sorta di pennino E poi con invece il mio pennello Che è sempre quello che ho utilizzato prima per la parte matte Ed è sempre freyara Vado a diffonderlo e a sfumarlo Devo dire che la parte a cui bisogna prestare più attenzione è proprio quella matte Ho capito poi con le applicazioni anche dei giorni successivi Che è importante prelevare poco prodotto Così riuscite a tenerlo sfumabile anche in transizione Se andate a intensificare il matte Diventa un po' difficile gestirlo e attenuarlo appunto in sfumatura Servirebbe a quel punto un altro prodotto Per andare un po' a smorzarlo e a sistemarlo Ma una volta che calibrate la parte matte Create la vostra struttura La parte metal invece è un gioco da ragazzi Perché basta applicarla Potete un po' intensificarla se desiderate Non ottenete spessore Perché il prodotto è veramente iper sottile Il tocco è asciutto Non va a segnare o increspare Devo dire però che per palpebra molto matura Ho un occhio magari con la palpebra cadente Anche incappucciato Insomma in questa combo di situazioni Sicuramente ci sono prodotti come Mi viene in mente sempre l'Ice2Kill di Armani Lo Stellar Che sono proprio pensati secondo me Per questo tipo di situazioni Perché hanno un tocco molto più setoso Qui sto andando a collegare un po' la sfumatura Anche nella parte inferiore Ovviamente non posizionando il prodotto direttamente sull'occhio Ma prelevandolo a piccoli tocchi dalla mano E qua mi ero dimenticata Probabilmente che stavo registrando Perché inizio a fare uno dei miei esperimenti Cioè mi innamoro del colore matte E vedo anche come potrebbe lavorare eventualmente In zone di piccoli contouring Scolpimenti e scolpiture Cupizzerro nella colorazione avorio Nell'angolo interno per dare un po' di base Perché sì secondo me è tutto molto luminoso Ma non abbastanza chiaro Quindi c'è bisogno Di qualcosa di più chiaro Nell'angolo interno dell'occhio Per andare un po' ad accendere lo sguardo E anche inarcata sopraccigliare Quindi mi sto aiutando con la Wow Glow Palette di Mesauda Devo dire che il risultato mi piace moltissimo All'inizio sembra più power Di quello che poi è nel corso delle ore Perché è come se la parte matte E la parte metal vadano in qualche modo Ad abbracciarsi E quindi il risultato è un pochino più spento Pur sempre è micro glitter Qui lo vedete con un'altra luce Ma un po' più attenuato Sicuramente si parla di ombretti luminosi Forse per qualcuno da giorno anche troppo Ma devo dire molto molto bello Si è comportato benissimo anche nelle ore Quindi per me è un promosso bocciato Promosso E ho anche il dito sporco Ciao la vostra pasticciona Ciao Ciao